Il decreto regionale 49 del 2010 che ha riordinato il sistema sanitario in Campania può essere rivisto anche alla luce delle esperienze maturate in questi anni. Lo ha detto il commissario dell'ASL Salerno, Postiglione. Lo strumento di programmazione ha creato malcontenti come la chiusura degli ospedali di Scafati e il ridipensionamento di Agropoli, la riduzione dei posti letto in gran parte degli ospedali e se prima i cambiamenti erano praticamente impossibili, oggi qualcosa si muove. Questo però non significa che l'esperienza fatta dal decreto 49 del 2010 ad oggi non ci sia necessità, non opportunità, ma necessità di rimetterci mano. La Regione ci sta già rimettendo mano, la nuova giunta regionale della Campania ha questo obiettivo come uno degli obiettivi prioritari, quello di rivedere e riorganizzare tutto ciò che è l'offerta sanitaria in Campania sia di territorio che di presidio ospedaliero, avendo presente anche l'esperienza di questi 4 anni di applicazione del decreto 49 che per molte cose non sono stati felicissimi.